Buongiorno, andiamo oggi a vedere come scegliere il magneto termico di protezione per un motore. Allora, innanzitutto, come scritto qua, è importante definire quella che è la corrente di impiego, perché questa non corrisponde sempre a quella nominale del motore, cioè quella quando il motore è a regime. Perché? Perché il motore potrebbe non lavorare in servizio continuo. Allora, se ipotizziamo per semplicità che lavori in servizio continuo e quindi che non abbia delle soste durante il funzionamento, questo si vede dal dato di targa perché è espresso lì, possiamo dire tranquillamente che la sua corrente di impiego è uguale alla corrente nominale, la IEN, corrente che può anche essere espressa nei dati di targa del motore, ma spesso non è molto affidabile il dato che c'è lì, perché non corrisponde veramente alla corrente che assorbe il motore o magari viene riportato un range di corrente, quindi uno non sa poi quale prendere. E qua ho messo che corrisponde anche alla corrente di linea assorbita, immaginando che di avere un'alimentazione dedicata solo per il motore, quindi che i cavi siano dedicati per l'alimentazione del motore. Prima di tutto è importante capire che cosa succede all'avviamento del motore, quindi che cosa succede alla corrente nel momento dell'accensione. Il motore sappiamo che è un carico che ha una forte corrente di spunto, una corrente che poi si abbassa dolcemente fino ad arrivare a quella regime. Dipende poi dalle tipologie di partenza, ovviamente il caso peggiore è una partenza diretta, poi ci sono partenze con stella triangolo, soft starter, inverter, che migliorano le cose e diminuiscono la corrente di spunto. Allora, per parlare di queste e cominciare a capire poi come andare in modo pratico a dimensionare il magneto termico, andiamo a vedere quello che è la caratteristica tempo corrente. Questa che vedete qua è appunto la caratteristica dove vedete con la curva arancione che cosa succede alla corrente che trovate nelle ascisse e il tempo in secondi che trovate sulle ordinate. Quindi qua, diciamo, alla partenza si ha questo picco, questo è l'esempio di una partenza diretta, anche il caso peggiore appunto, si ha una corrente di spunto molto elevata che arriva a essere 8-10 volte anche la corrente poi di regime. Poi abbiamo un abbassamento, quindi un tempo comunque di corrente sempre più alta che è l'avviamento, che arriva ad essere anche 2-4 volte la corrente regime e poi la corrente nel tempo finita la fase di abbiamento va a regime. Che cosa deve succedere per dimensionare bene il magneto termico? Allora, innanzitutto la curva blu che vedete è la curva termica, quindi la curva di intervento termico. Quella verde invece è quella che è la curva di intervento magnetico. Allora, sappiamo che la parte termica deve proteggere dalle sovracorrenti, quindi se una corrente è leggermente più alta della corrente a regime, questa può essere sopportata anche per lunghi periodi. C'è sempre una proporzione, se invece una corrente è piuttosto elevata rispetto a quella di regime, il relè termico scatterà, quindi dipende poi dal tempo. Però diciamo che piccole sovracorrenti sono comunque tollerate e sopportabili, non danneggiano di per sé il motore. Cosa invece molto differente per quanto riguarda, quindi appunto la curva di sgancio termico è più dolce, cosa invece molto differente per quanto riguarda la curva di intervento magnetico. La parte magnetica protegge dai cortocircuiti e quindi deve poter intervenire immediatamente per evitare di danneggiare il motore. Quindi ho bisogno che il punto di lavoro, quindi tutta la curva di lavoro del motore, rimanga al di sotto di queste due curve. Ovviamente il magneto termico avrà poi una curva che sarà la somma della parte termica con la parte magnetica. Ovviamente il punto di lavoro deve rimanere sotto per non sganciarsi in momento sbagliato, nel senso non devo durante lo spunto, l'avviamento, far intervenire la parte magnetica e non devo far intervenire la parte termica se sono all'interno del mio range di lavoro. Ecco qua, ho messo i commenti. Quando viene scelto un magneto termico dobbiamo andare a scelgere quello che è un valore standard di mercato. Esistono quindi delle tabelle. Innanzitutto la tipologia per proteggere un motore ci vuole un magneto termico di tipo D, fatto apposta per poter sopportare le correnti di spunto, perché ha un intervento da 10 a 20 volte la corrente di regime e quindi riesce a sopportare lo spunto senza sganciarsi. Andiamo a vedere quali sono i valori standard di mercato. Qui la tabella delle correnti nominali e dei valori standard degli magnetotermici. Quindi il discorso, abbiamo detto, noi dovremmo andare a scegliere uno di tipo D, quindi andare qua, proprio perché vedete che ha l'intervento tra 10 e 20, il valore IN. Come andiamo a scegliere? Andiamo a calcolare la corrente di regime del motore, dopodiché andiamo a scegliere il valore di corrente di intervento nominale dell'interruttore magnetotermico subito più alto, un valore più alto di quegli standard di mercato. Facciamo un esempio numerico pratico. Allora, abbiamo, supponiamo ora di avere un matto, un motore a sincrono trifase, con potenza nominale 3 kW, un cost fee di 0,8 e un rendimento percentuale dell'88%, all'alimentazione ovviamente è 400 V. Allora, cosa andiamo a fare? Per prima cosa andiamo a ricavare la potenza elettrica, quindi andiamo a calcolare la potenza elettrica assorbita. Abbiamo la potenza nominale che è la potenza meccanica, quindi andiamo a calcolarla dalla formula inversa. Sappiamo che il rendimento è la potenza utile, che è la potenza meccanica, diviso la potenza generata, quindi la potenza erogata, che è la potenza elettrica, e quindi andiamo a calcolarlo con la formula inversa. Quindi la PE sarà uguale alla potenza meccanica diviso il rendimento, non espresso in percentuale, ma espresso numericamente, quindi sarà 0,88. Quindi sarà 3.000 diviso 0,88, quindi avremo 3.409 W. Con la potenza elettrica andiamo a calcolare la corrente assorbita dall'impianto, quindi la nostra IL, che poi sarà la nostra corrente a regime del motore, quindi corrente di linea sarà linea di frazione, anche qua, viene espressa come sopra abbiamo la potenza elettrica, sotto abbiamo, siccome siamo in trifase, abbiamo radice di 3 per l'alimentazione per il coseno di fi, che è, ok, quindi qua la formula, vado a sostituire e a fare i calcoli. e qua mi viene 6,15 A. Allora, a questo punto, quindi 6,15 A, ovviamente quello da 6 non mi basta, sceglierò quello da 10, quindi sceglierò un di 10 il quale mi consente quindi mi consente di avere uno sgancio magnetico compreso tra 61,5 quindi tra 10 volte Ien, quindi 61,5 e 20 volte 123 Ampere l'ideale è sempre rimanere quando dobbiamo trovare la corrente via teorica, la corrente di sgancio magnetico che sia sempre intorno alle 13-14 volte la corrente nominale e qui ovviamente con questo tipo di magneto termico viene soddisfatta. In questo caso la corrente di intervento termico è comunque poco più alta della corrente di regime quindi comunque sia è giusto perché questa corrente deve poter passare se si ha una piccola sovracorrente deve poter essere sopportata anche per lunghi periodi più la sovracorrente si alza e più è veloce l'intervento anche della parte termica. Qui ho riassunto la scelta del magneto termico ho riportato il fatto che il tipo di è adatto ai motori perché permette di intervenire se ho una sovracorrente termica maggiore dei 10 A per se non di 10 e una corrente di cortocircuito superiore ai valori che abbiamo calcolato che tuttavia non interviene durante la fase d'avviamento perché sappiamo che caso peggiore di partenza diretta abbiamo la corrente di spunto che è circa 8 volte la corrente a regime. Spero di essere stata chiara, ci vediamo al prossimo esercizio. Grazie. 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 Grazie.